Oggi è una giornata molto importante per quanto riguarda le professioni del mare, è così? Assolutamente, il settore della nautica è sicuramente un settore in grande espansione e crescita per il nostro territorio. Confindustria e Anci in questo credono molto e le viene dimostrato dall'iniziativa che stiamo portando anche avanti proprio come associazione relativamente alla mobilità via mare. Noi crediamo che in un territorio come il nostro, a vocazione turistica e con una viabilità molto complicata, esplorare un nuovo territorio come quello del mare sia assolutamente un'alternativa valutabile. Proprio per questo la nostra associazione si sta occupando di portare avanti questo progetto per la valorizzazione e il collegamento Italia-Francia, quindi la provincia d'Imperia, con la regione PACA, affinché si possa valorizzare maggiormente le nostre coste e dare un'alternativa anche agli abitanti del nostro territorio di viabilità. Per ora con vocazione turistica, come dicevo, e poi speriamo possa essere portata anche come servizio pubblico in un futuro.